E' maggio. Il sole mi scalda, mi fa sentire bene. Per me è come se fosse una medicina. Forse in questo momento mi sta donando con amore un rimedio utile per la mia salute. Penso a cosa mi piacerebbe veramente fare oggi. E nel silenzio, in questo silenzio, inizio a respirare emozioni. Il tempo passa, ma niente, 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 non succede proprio niente. E' possibile. Mi chiedo e intanto la mente inizia un meraviglioso volo. Va lontano, lontano, fino a raggiungere la favolosa Repubblica Domenicana dove ho vissuto per tre anni. Penso al mio amore rosario. Vorrei tanto rivederlo. Mi sembra di sentire il suo profumo nell'aria che respiro. E' talmente impresso nella mia memoria da avvertirlo forte, qui, proprio come se lui fosse vicino a me. L'odore della sua pelle. Oh sì, l'odore della sua pelle. Era stato creato per me. Ne sono certa. Era la mia droga e non potevo farne a meno. No. Ma adesso che ci penso. Avevo bisogno almeno di una dose giornaliera per stare bene. Annusavo il suo odore. E mentre lo sentivo scendermi dalle narici all'anima, pensavo di essere a casa. Lui ha un'altra. Non lo vedo più. Il nostro meraviglioso tempo si è disciolto nell'oblio. Sento un senso di colpa per Limagel, maestro e mentore. Arriva nella mia vita all'improvviso. Lo amo da subito. Sento di potercela fare. Sento un senso di colpa per Limagel, maestro e mentore. Sento un senso di colpa.